Il fosso che vedete è quello dell'acqua bona e interessa le zone pesaresi di Cattabrighe, Santa Maria delle Fabrecce e Siligate. Il video rappresenta una segnalazione di Ottavio, telespettatore di Rossini TV, che mette in luce la cartina tornasole di un'altra faccia dell'emergenza idrica, quello della mancata pulizia di fossi e invasi, che assieme a riduzione delle perite e interconnessioni delle reti, rappresenta uno degli aspetti su cui si può agire a livello di manutenzione di fronte ad una lotta impari contro i cambiamenti climatici. Pulizia degli invasi che è stata anche al centro di una mozione supportata da Marta Ruggeri e Andrea Biancani, accolta ieri dal Consiglio regionale. Un elemento che può dare un'assistenza in più ad una situazione che vede aumentare i consumi d'acqua mentre diminuisce la portata dei fiumi. Su tutti il metauro che continua in un calo allarmante e costringerà a breve all'apertura dei pozzi di Sant'Anna e del Burano, che un anno fa furono aperti a metà luglio. Intanto sono più di 60 i comuni marchigiani che hanno emesso ordinanze antispreco contro l'uso improprio dell'acqua potabile, 24 dei quali sono nel Pesarese. Per giovedì è previsto un temporale, ma se non dovesse dare il ristoro sperato, diventa più che un'eventualità la richiesta della Regione Marche al Governo dello Stato d'emergenza.